Dal libro di dottrine di salvezza volume 2 capitolo 4 il matrimonio celeste il matrimonio e l'esaltazione il matrimonio l'alleanza dell'esaltazione il matrimonio così come è inteso dai santi dei ultimi giorni è un'alleanza destinata ad essere eterna esso è la base dell'esaltazione eterna perché senza di esso non potrebbe essere alcun progresso in perpetuo nel regno di dio il signore ha insegnato a joseph smith la dottrina dell'eternità dell'alleanza matrimoniale e della perpetuazione della famiglia dopo la morte questa rivelazione è stata una meravigliosa notizia per i credenti della dottrina secondo cui alla morte marito e moglie sono separati per sempre e i vincoli familiari giungono a una linea eterna pochissimi sono coloro che non sperano che l'eternità della famiglia si dimostri un fatto reale nel vangelo di gesù cristo non c'è ordinanza più importante più solenne più sacra e più necessaria alla gioia eterna dell'uomo del matrimonio ciò non di me nonostante non c'è altro principio che sia stato oggetto di scherzi grossolani da parte di persone volgari e impure e persino di molti che si ritengono dei raffinati quanto quello del matrimonio il matrimonio impartisce le supreme benedizioni del vangelo il matrimonio è un principio che una volta contratto presenta problemi più gravi di qualsiasi altro principio esso si dovrebbe accogliere con pazienza e amore con quell'amore è grande che si ottene attraverso il potere dello spirito santo niente come la fedeltà l'alleanza matrimoniale prepara più facilmente l'uomo alla gloria nel regno di dio attraverso questa alleanza forse più che mediante qualsiasi altre noi osserviamo il decreto perfetto della volontà divina ma l'alleanza suddetta è soltanto una delle molte richieste all'uomo che cerca di fare la volontà del padre se si riceve nella maniera dovuta questa alleanza diviene il mezzo della proprietà più grande il massimo onore in questa vita e in quella futura derivante dal dominio e dalla potenza di un amore perfetto sono benedizioni che da essa derivano queste benedizioni di gloria eterna sono tenute il servo solo per coloro che sono pronti ad osservare questa e tutte le altre alleanze evangelica il matrimonio è il principio più grandioso più glorioso e più esaltante del vangelo esso è quello che il signore riserva a coloro che divengono suoi figli e sue figlie tutti gli altri sono soltanto dei servitori anche se giungono alla talversa questi ultimi non diverranno mai membri della famiglia del nostro padre e nostro dio essendosi riputati di ricevere la celeste alleanza del matrimonio il matrimonio celebrato per l'autorità dell'uomo termina con la morte il signore ci ha informato attraverso i suoi seri profeti che tutte le cose sono governate dalla legge la sua casa è una casa d'ordine perché tutto quanto essa contiene rispetto alla legge e non accetterà dall'uomo alcuna offerta vuoto o contratto che non siano fatti secondo le leggi che egli ha stabilito e che regano il suo regno gli obblighi e gli accordi fissati dall'uomo nel merito dei quali il signore non entra perché non sono stati fatti da lui o per suo ordine che la sua legge avranno termine con la morte dei uomini quindi tutti i contratti di matrimonio nonché altri contratti e obblighi stipulati in questa vita da persone che non hanno accettato il vangelo eterno devono avere termine quando interessati passano da questa esistenza all'altra perché il contratto matrimoniale sia valido e vincolante per l'eternità e per il tempo le parti contraenti devono stipulare il rapporto matrimoniale in piena osservanza delle leggi su cui si basano le benizioni già ricordate ai santi è comandato di sposarsi per l'eternità il signore ci ha comandato come si legge nelle rivelazioni che il matrimonio fra i membri della chiesa venga celebrato nella sua santa casa e non per il tempo soltanto ma per il tempo e l'eternità quindi coloro che si accontentano di compiere una cerimonia per il tempo soltanto è unendosi in questa vita sono soddisfatti del matrimonio così come è stato celebrato o sono ignali di questo fondamentale principio evangelico e delle sue conseguenze oppure si oppongono intenzionalmente al comandamento del signore ora quello che voglio dire è diretto soprattutto ai genitori dei giovani probabilmente sono ai genitori quelli da viassimare di più perché in molti moltissimi casi non hanno insegnato loro figli il valore sacro dell'alleanza matrimoniale il mio cuore si riempie di tristezza quando vedo sul giornale il nome di una ragazza o di un ragazzo figli membri di questa chiesa che si sono uniti in matrimonio fuori del tempio del signore dicono che sono che sono triste perché so cosa questo significa cioè che essi si precludono l'esaltazione nel regno di dio senza il matrimonio eterno ci sarà dolore nella risurrezione per questi giovani che sembrano ora così felici quando si reveranno nella risurrezione e si troveranno nella condizione che si saranno meritati per la loro mancanza di fede e di comprensione nel vangelo e mi spiace dirlo per l'incoraggiamento che molte volte hanno ricevuto dai loro stessi genitori ci saranno pianti e genti e stridor di denti e amarezza di cuore le persone indennie non devono andare al tempio naturalmente ci sono persone che non sono dende di andare al tempio e perciò non mi dovrebbero andare nessuno dovrebbe andare al tempio se non quelli che ne sono degni come ha detto il signore che vincono mediante la fede e che sono purificati e giusti e fedeli soltanto essi possono andare al tempio se sono impuri se non hanno fede faranno bene a starne fuori finché non acquisiranno la fede e non si sono purificati il matrimonio civile ci rende servitori nell'eternità a proposito del matrimonio il signore dice poiché tutto ciò che rimane viene da me e tutto ciò che non viene da me sarà scosso e distrutto se dunque un uomo sposa una donna in questo modo mondo e non la sposa mediante me o la mia parola e che faccia alleanza con lei per tutto il tempo che egli è nel mondo e che ella si leghi a lui la loro alleanza e il loro matrimonio non avranno alcun validità quando saranno morti e quando saranno fuori del mondo perciò non saranno legati da alcuna legge quando saranno fuori del mondo vale a dire che essi non sono vincolati da alcuna legge evangelica il vangelo non avanza alcun diritto su di loro quando sono morti il loro contratto gli obblighi e i vincoli hanno fine essi non hanno alcun diritto l'uno sull'altro e nessun diritto sui loro figli questi ultimi rimangono senza genitori e soltanto se sono fedeli possono essere adottati da un'altra famiglia pertanto quando essi sono fuori del mondo essi non possono più sposarsi né sono più dati in matrimonio ma sono nominati angeli nei cieli quali angeli sono servitori destinati a servire coloro che sono degni di un ben più grande e più importante peso di gloria eterna poiché questi angeli non obbedirono la mia legge ragion per cui non possono moltiplicarsi ma rimangono separati e celvi senza esaltazione nella loro condizione di salvezza per tutta l'eternità e non sono dunque dei ma angeli di dio per sempre la conseguenza logica qui è questa coloro la cui vita è moralmente sana che sono virtuosi onorati ma che non vogliono celebrare questa alleanza del matrimonio eterno nella casa di dio risorgeranno e potranno anche entrare nel regno celeste ma soltanto come servitori per servire coloro che sono degni di un ben più grande e più importante peso di gloria eterna scelta tra le cose terrene e l'esaltazione volete continuare a percorrere questa breve distanza chiamata mortalità amando il costume del mondo cioè le tentazioni di allettamenti e tutto quello che esso può offrire perché sono cose piacevoli e poi levarvi nella risurrezione per essere dei servitori destinati a servire coloro che sono degni di un ben più grande e più importante peso di gloria eterna questo è proprio quello che tali persone riceveranno e può darsi anche che se non sono oneste e onorate che vadano le regne perreste o telesti perdendo del tutto il regno celeste dato che riceveremo secondo le nostre opere ora questa è la fine per ciò che riguarda il matrimonio di coloro che sono soddisfatti di sposarsi semplicemente secondo la legge degli uomini e non secondo la legge di dio il matrimonio celeste fa sì che i sposi siano dei nell'eternità ma se ci sposiamo per il tempio per il tempo e per l'eternità se il nostro matrimonio è suggellato sulla nostra testa da coloro che ne hanno l'autorità e se poi teniamo fede alle nostre alleanze e restiamo fedeli sino alla fine nella resurrezione dei morti ci leveremo e riceveremo le seguenti benzioni che ci sono state promesse allora essi saranno dei perché non hanno più fine pertanto essi saranno le eternità in eternità perché continueranno saranno allora al di sopra di tutto perché tutte le cose saranno loro assoggettate allora saranno dei perché hanno ogni potere e gli angeli sono sottomessi a loro chi sono gli angeli sono coloro che non hanno obbedito alla legge in verità in verità io ti dico a meno che tu obbedisca alla mia legge tu non potrai giungere a questa gloria obbedire a quale legge alla legge della nuova eterna alleanza che abbraccia tutte le alleanze poiché strette la porta e angusta la via che conduce all'esaltazione ed è alla continuazione delle vite e ve ne sono pochi che la trovano perché non mi ricevete nel mondo né mi conoscete ma se mi ricevete nel mondo allora voi mi conoscerete e riceverete la vostra esaltazione perché là dove io sono sarete poi pure quale meravigliosa promessa ed è disponibile è un dono non ci costa niente soltanto rettitudine fede obbedienza e questo prezzo sicuramente possiamo pagarlo significa naturalmente rinunziare alle cose del mondo ma è questo un sacrificio c'è qualcuno che considera la rinunzia alle cose terrene un sacrificio alcuni potrebbero considerarla tale ma non è così in effetti non sacrifichiamo mai niente per il vangelo di gesù cristo sarebbe come se dessi 100 lire a un uomo che me ne ha date mille e poi andassi a dire che il mio gesto è stato un grande sacrificio perciò se volete raggiungere l'esaltazione e divenire come dio cioè un figlio di dio o una figlia di dio e riceverete la pienezza del regno dovete obbedire alla sua legge non semplicemente alla legge del matrimonio ma tutto quello che appartiene alla nuova ed eterna alleanza e allora avrete la continuazione delle vite in eterno perché dice il signore questa è la vita eterna conoscere il solo saggio è vero dio e gesù cristo che egli ha mandato io sono colui ricevete dunque la mia legge coloro che non sono sposati erediteranno le morti cosa ne sarà degli altri vediamo quello che dice il signore larghe la porta e spazioso il cammino che conduce alle morti e ve ne sono morti che vi entrano perché non mi ricevono né obbediscono alla mia legge cosa intende dire il signore con le parole le morti non significa annientamento né che quegli esseri non avranno l'immortalità tutti gli uomini avranno l'immortalità cioè vivranno per sempre questo è un dono di dio ogni anima si leverà nella resurrezione e allora cosa vuol dire il signore quando dichiara che coloro che si introducono nel cammino spazioso vanno alle morti vuol dire che entrano nel mondo futuro separatamente e da soli e non avranno alcuna continuazione di vite nessuna moltificazione questa è la morte essi non avanzano per ciò che riguarda la progressione essi arrivano alla fine il signore chiama questo le morti e io sono assolutamente sicuro che ogni anima che rifiuti questo comandamento del signore e si metta nel cammino spazioso quando entrerà nell'eternità scoprirà di essere entrata nella morte di essere giunta alla fine non alla fine della vita ma alla fine della moltiplicazione il matrimonio e divenire il giorno promesso a coloro che ricevono questa alleanza del matrimonio e che rimangono fedeli sino alla fine è il dono della moltiplicazione eterna essi cioè non avranno fine soltanto coloro che hanno questo potere conosceranno il solo saggio e vero dio e gesù cristo che gli ha mandato gli altri potranno vedere il signore ed essere ammaestrati da lui ma in effetti non lo conosceranno né conosceranno il padre suo a meno che non diventino come loro chi è che desidera entrare nel mondo eterno ed essere un servitore quando abbiamo la promessa che possiamo divenire figli e figli di dio eppure molti di noi la più gran parte entrando nel mondo eterno come servitori e non come figli e questo semplicemente perché pensiamo più al mondo e alle sue alleanze che non a dio e alle sue alleanze noi nella nostra cecità di cuore ci rifiutiamo di osservare i suoi sacri e santi comandamenti o quante e quale amarezza ci sarà nel giorno del giudizio quando ogni uomo riceverà la ricompensa secondo le sue opere nessuna esaltazione senza il matrimonio poiché il matrimonio è ordinato a dio e nel signore l'uomo non è senza la donna e nella donna senza l'uomo al di fuori del rapporto matrimoniale non può esserci alcuna esaltazione nella pienezza delle benedizioni del regno celeste un uomo non può essere esaltato da solo né la donna lo può essere da sola entrambi devono avere un compagno per condividere gli onori e le benedizioni di questa grande esaltazione il matrimonio per il tempio e per l'eternità è il presupposto sicuro sulla suprema gloria del regno del padre nostro mediante la quale i suoi figli divengono suoi eredi nelle cui mani egli mette tutte le cose se un uomo e sua moglie si salvano in rendice diversi per esempio uno nel regno fleste e l'altro in quello terrestre automaticamente il suddellamento si spezza cioè avviene a causa dei peccati di uno dei due nessuno che si conservi fedele può essere privato dell'esaltazione in altre parole un marito meritevole non può impedire ad una moglie fedele di ricevere esaltazione e viceversa in questo caso il servitore fedele sarà dato a qualcuno che è fedele l'eternità della famiglia la felicità eterna deriva dalla continuazione della famiglia il signore istituì il matrimonio non soltanto perché esso durasse in eterno ma anche perché la famiglia durasse in eterno il piano previsto del vangelo per il governo dell'uomo su questa terra è tipico della legge che regolano il regno di dio è possibile immaginare una fonte più grande di dolore dell'essere lasciati nel mondo eterno senza avere diritto al proprio padre o alla propria madre o ai propri figli il pensiero di una nazione senza l'unità familiare come elemento fondamentale di un paese in cui tutti i cittadini siano sostanzialmente estrani l'uno dall'altro dove ogni forma di affetto sembri sconosciuta e i vincoli familiari siano assai deboli per legare i vari gruppi è un pensiero che mi fa orrore si fatte condizioni non potrebbero portare la nazione se non all'anarchia come primo passo e poi al dissolvimento e perché non è ragionevole credere che la stessa cosa sia vera in relazione al regno di dio se in quel regno non ci fossero vincoli familiari e tutti uomini e donne fossero angeli senza naturale parentele come molte persone credono potrebbe essere un posto di felicità un paradiso la famiglia di dio padre le dottrine preliminanti secondo le quali nell'altro mondo non ci sono vincoli di questo genere e che il sesso scompare con la concessione della salvezza ai giusti non sono ovviamente d'accordo con le scritture il signore disse a giovanni chi vince eriterà queste cose e io gli sarò dio ed egli mi sarà figuolo inoltre paolo nella sua lettera ai santi efesini diceva per questa calgion dico io piego le ginocchia dinanzi al padre dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome poiché tutti coloro che osservano il vangelo nella sua interezza diverranno eredi e membri della casa di dio perché non dovrebbero esistere una cosa come la famiglia di dio nei cieli le scritture ci dicono che noi siamo la progene di dio che egli ci ha invitati a rivolgerci a lui chiamandolo padre nel senso più completo della parola e gesù questo insegnò ai suoi discepoli nell'atto di pregare inoltre quando egli apparve a maria dopo la resurrezione e le disse non mi toccare perché non sono ancora salito al padre ma va dai miei fratelli e di loro io salgo al padre mio e padre vostro all'idio mio e dio vostro ciò non sottolinea forse l'unità familiare per mezzo della resurrezione del sacerdozio detenuto da ilia la chiesa è venuta a conoscenza del fatto che ogni nucleo familiare in cui i genitori si sono sposati per il tempo e per l'eternità rimarrà intatto per tutta l'eternità inoltre ogni famiglia dovrà essere allacciata a quella della generazione che l'ha preceduta finché i fedeli che avranno dimostrato il loro diritto di appartenenza alla famiglia avendo osservato il vangelo non saranno tutti uniti nel regno celeste di dio in una sola grande famiglia dal principio alla fine del tempo in questo modo tutti quelli che ricevono l'esaltazione divengono eredi di dio ecco eredi di gesù cristo nel godimento degli eterni rapporti familiari l'unità familiare continua soltanto nel regno celeste non c'è niente che possa sostituire una famiglia retta questa può non essere la concezione del mondo ma e dovrebbe essere la concezione dei membri della chiesa di gesù cristo dei santi gli ultimi giorni la famiglia è l'unità del regno di dio al di fuori del regno celeste non c'è organizzazione familiare la quale è riservata a coloro che sono disposti a tenere fede ad ogni alleanza e a ogni obbligo contratti durante questa vita mortale noi crediamo che la famiglia avancerà io traggo un grande conforto nel pensiero che se sono fedele e degno dell'esaltazione mio padre sarà mio padre mia madre sarà mia madre e io sarò il loro figlio per tutta l'eternità i miei fratelli e le mie sorelle saranno i miei fratelli e le mie sorelle per tutta l'eternità come per tutta l'eternità saranno i miei figli e mia moglie non so come la pensino gli altri in proposito ma per questo è un pensiero stupendo che mi aiuta a mantenermi sereno la catena familiare presso gli esseri saltati ogni uomo sposato è a capo della sua famiglia fe della sua famiglia diretta così io per esempio sarò a capo del mio nucleo familiare in virtù del suggelamento per il tempo e per l'eternità e i miei figli mi apparterranno io apparterrò ai miei genitori nel loro gruppo familiare annualmente mio padre insieme ai suoi fratelli e sorelle apparterranno al nucleo familiare e di suo padre e così via tutti i congiunti di generazione in generazione come anelli di una stessa catena così sarà per i giusti del tempo di Adamo in poi Adamo ossia Michele avendo autorità e giurisdizione sui suoi posteri sarà a capo di questo vasto nucleo familiare i cui membri avranno osservato i comandamenti di Dio questo è l'ordine del sacerdozio naturalmente ci saranno catene che si spezzeranno anelli di congiunzione che mancheranno perché non si possono costringere le persone ad entrare nel regno coloro che non saranno degni di unirsi a questo raggruppamento di famiglie dovranno rimanere da parte e coloro che ne saranno degni saranno riuniti e la catena andrà avanti lo stesso alla fine quando quest'opera si sarà completata e Cristo avrà consegnato al padre suo le chiavi e avrà fatto il suo rapporto e la morte sarà stata annientata allora quel grande gruppo familiare da Adamo in poi composto di tutti i giusti di coloro che avranno osservato i comandamenti di Dio scoprirà di essere una sola famiglia cioè la famiglia di Dio avendo diritto a tutte le benizioni che sono proprie dell'esaltazione i figli in spirito nella resurrezione quelli che giungeranno all'esaltazione del regno celeste avranno il potere dell'eterna moltiplicazione dei posteri e saranno al di sopra di tutto perché tutte le cose saranno loro assoggettate i figli nati da genitori che con la loro fedeltà avranno ottenuto la pienezza di queste benedizioni saranno i figli in spirito non rivestiti di tabernacoli, di carnali e d'ossa questi figli saranno come eravamo noi primi di venire in questo mondo le scritture ci dicono che noi siamo la progene di Dio nello spirito e che Gesù Cristo fu il primo genito del nostro Padre Eterno in quel mondo di spirito Adamo e il matrimonio celeste Adamo si unì in matrimonio prima che la morte entrasse nel mondo il Signore creò l'uomo a sua immagine masca e femmina e la donna fu data come compagna all'uomo infatti il Signore disse non è bene che l'uomo sia solo quando Eva fu data ad Adamo l'unione era eterna nel mondo non c'era morte perché la caduta dell'uomo avvenuta fu più tardi quando furono sparsi i semi della morte e l'uomo fu scacciato dalla presenza del Signore a causa della sua trasgressione l'unione precedente formata non si ruppe le scritture dicono che Adamo si mise a coltivare la terra e a dominare su tutti gli animali dei campi e a mangiare il suo pane col sudore della sua fronte ed Eva pure, sua moglie, lavorava con lui questa sacra unione è destinata a durare per sempre Adamo sarà conosciuto come il principe universale l'anziano dei giorni ed Eva come la madre di tutti i viventi per tutta l'eternità entrambi saranno onorati dai loro discendenti non era bene che l'uomo fosse solo nel principio e non è stato e non sarà mai bene che l'uomo sia solo quell'uomo o quella donna che rimarrà separato e celibe per tutta l'eternità avrà perduto la più grande benedizione che il Signore ha preparato per coloro che lo amano quando l'uomo diventa maturo e gli desidera lasciare suo padre e sua madre e unirsi a sua moglie formando un'unione che dovrebbe durare per sempre il matrimonio di Adamo è eterno Paolo dichiara che nel Signore né la donna è senza l'uomo né l'uomo senza la donna e il Signore disse che avrebbe dato all'uomo una compagna che sarebbe stata un aiuto convenevole per lui vale a dire un aiuto che avrebbe soddisfatto tutte le sue esigenze non soltanto quelle della compagna ma anche quelle di raggiungere la pienezza e dei fini del Signore relativamente alla missione dell'uomo nella vita mortale e quindi nell'eternità né l'uomo né la donna da soli potevano adempere allo scopo della loro creazione l'unione dei due era necessaria per completare l'uomo ad immagine di Dio e il Signore disse facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza e Dio creò l'uomo a sua immagine lo creò a immagine di Dio li creò maschio e femmina inoltre quando la donna fu presentata all'uomo Adamo disse questa finalmente è ossa delle mie ossa è carne della mia carne da questo si capisce che la sua unione con Eva doveva essere eterna di ciò si trova conferma nelle parole del Salvatore agli ebrei perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con la sua moglie e i due saranno una sola carne talché non sono più due ma sono una sola carne allora come possono il marito e la moglie separarsi come spesso avviene fra le persone di oggi ed essere giustificati agli occhi di Dio quando marito e moglie si separano essi infrangono la loro legge divina il profeta Giosimiti ci ha insegnato che il matrimonio è una istituzione del cielo nata nel giardino di Eden e quindi è necessario che esso sia celebrato tramite l'autorità del sacerdozio eterno Dio padre unì in matrimonio ad Amedeva il matrimonio così come era stato stabilito all'inizio era un'alleanza eterna quando il primo uomo e la prima donna si sposarono non esisteva ancora il vincolo finché morte non vi separi perché a quel tempo la morte non era ancora entrata nel mondo in quella circostanza la cerimonia fu celebrata dal padre eterno stesso la cui opera dura per sempre è volontà del Signore che tutti i matrimoni abbiano la stessa caratteristica e divenendo una sola carne l'uomo e la donna devono continuare nella condizione di coniugi secondo il disegno del Signore non solo in questa vita ma anche nell'altra sempre e eternamente il matrimonio nei cieli gli insegnamenti apostatici negano il matrimonio eterno i genitori retti di tutto il mondo desiderano che l'unione della propria famiglia si protragga oltre la tomba i poeti di tutte le età hanno esaltato tale vincolo non crediamo di sbagliare affermando che nessun marito che abbia amato teneramente sua moglie e che poi abbia dovuto comporne le spoglie mortali lo abbia fatto senza lo struggente desiderio di incontrarla di nuovo e di rinnovare per sempre la loro unione nell'eternità nessun genitore ha mai composto le spoglie mortali di un figlio senza provare lo stesso struggente desiderio e per quale ragione se si esclude quella della crudeltà gli insegnamenti del mondo gli negano questa benizione? non è sempre stato così questa falsa dottrina che ha causato molti dolori è il risultato dell'apostasia ed è basata in larga misura sull'equivoco di insegnamenti religiosi non ispirati i quali interpretano erroneamente le parole del Signore ai miscredenti sadducei questi sadducei negatori della risurrezione cercavano in ogni maniera di cogliere al Signore in fallo facendolo cadere in contraddizione nel fare la loro domanda essi dissero che una certa donna si era sposata sette volte o almeno aveva vissuto con sette uomini che si presumeva possero sui mariti secondo la legge stabilita da Mosè poiché questi sadducei non credevano nella risurrezione non credevano neppure nel matrimonio eterno e pensavano che non potesse esserci alcuna adeguata risposta alla loro domanda proprio il fatto che essi fecero questa domanda sta a dimostrare che la dozzina del matrimonio per l'eternità veniva insegnata ed accettata da coloro che non erano della loro particolare fede altrimenti non avrebbero mai presentato la questione al Salvatore la sua risposta fu esattamente quella che noi daremmo oggi e che diamo e che il Signore ha dato nelle rivelazioni della Chiesa nessun matrimonio nei cieli per i sadducei questa è la risposta il matrimonio come il battesimo è un'ordinanza che deve essere celebrata in questa vita essa non può essere celebrata quando gli uomini sono morti se non nel caso del battesimo per procura e per questa ragione il Signore disse che in cielo essi non sposano né sono sposati egli avrebbe potuto similmente rispondere a coloro che avanzavano riserve e obiezioni intorno al battesimo dicendo che in cielo non vi è alcun battesimo tutte le ordinanze del Vangelo che ci sono state date qui appartengono a questa vita mortale e devono essere contratte dalle parti interessate o da qualcuno che le celebra in loro favore dopo che esse sono morte ma devono essere sempre celebrate qui il Salvatore rispondendo alla loro follia disse i figlioli di questo secolo cioè il mondo cui appartenevano i sadducei sposano e sono sposati io richiamo la vostra attenzione sul fatto che il Signore disse che sia egli che i suoi discepoli non erano di questo mondo mentre i sadducei lo erano quindi aggiunse ma quelli, gli uomini di questo mondo i quali non servono tutta la legge che saranno reputati degni da avere parte al secolo a venire cioè anche quelli che entrano nel regno celeste ma che non essendo sposati non ottengono l'esaltazione di quel regno e alla risurrezione dai morti non sposano e non sono sposati perché neanche possono più morire giacché sono simili agli angeli e sono figlioli di Dio essendo figlioli della risurrezione nessun matrimonio nei cieli per gli ingiusti questa è la sola risposta che il Signore poteva dare a quei miscredenti essa è in pieno accordo con la rivelazione fatta dal profeta Joseph Smith nella quale il Signore dice che quando essi, cioè quelli di questo mondo che non osservano tutta la legge sono fuori del mondo essi non possono più sposarsi né sono più dati in matrimonio ma sono nominati angeli nei cieli quali angeli sono servitori destinati a servire coloro che sono degni di un ben più grande e più importante peso di gloria poiché questi angeli non obbedirono alla mia legge ragion per cui non possono moltiplicarsi ma rimangono separati e celibi senza esaltazione nella loro condizione di salvezza per tutta l'eternità e non sono dunque dei ma angeli di Dio per sempre le risposte sono esattamente le stesse e si riferiscono a coloro che possono essere degni di una parte di salvezza malgrado il loro rifiuto dell'alleanza del matrimonio eterno quelli che respingono la verità del Vangelo eterno non potranno né sposarsi né essere dati in matrimonio questo privilegio è riservato a coloro che osservano i comandamenti del Signore nella loro interessa e rispettano le leggi di Dio certe restrizioni sono imposte a quelle che entrano nei regni terrestri e telesti e anche a quelli del regno celeste che non giungono all'esaltazione e i loro corpi subiranno dei cambiamenti per adeguarsi alla loro condizione e proprio a causa di queste restrizioni nessuno si sposerà né sarà dato in matrimonio né vi sarà vita comune fra uomini e donne le leggi che regolano il matrimonio eterno le chiavi richieste per il matrimonio celeste il matrimonio per l'eternità può essere celebrato soltanto nel Tempio e in nessun'altra parte l'autorità mediante la quale tali matrimoni sono celebrati deve essere conferita a colui che officia nelle ordinanze in virtù della nomina da parte di colui che possiede le chiavi sulla terra c'è soltanto un uomo alla volta che detiene le chiavi di questo potere vincolante e suggellante nessun altro uomo ha il diritto di officiare in un matrimonio o cerimonia di suggellamento per il tempo e per l'eternità a meno che egli non sia stato direttamente nominato da colui che possiede le chiavi di questo potere questa nomina può essere revocata in qualsiasi momento dalla stessa persona che possiede le chiavi suddette nessun uomo può officiare in queste cerimonie a meno che egli stesso non sia investito dal santo sacerdozio chi ritiene di poter celebrare tali matrimoni in virtù del suo ufficio sacerdotale senza peraltro essere stato nominato da colui che possiede le chiavi di questo potere è privo di autorità e quindi i suoi atti non sono validi gli uomini hanno l'obbligo di sposarsi i giovani che trascurano il grande comandamento di sposarsi sia per privizia o per o per un egoistico desiderio di evitare le responsabilità che la vita matrimoniale comporta prendono una direzione spiacevole agli occhi di Dio esaltazione significa responsabilità e senza responsabilità non può esserci alcuna esaltazione se un uomo si rifiuta di assumersi le responsabilità della vita matrimoniale perché non vuole preoccupazioni prende una direzione che può escluderlo per sempre delle responsabilità tenute in serbo per coloro che sono pronti a osservare completamente i comandamenti del Signore la sua progressione eterna sarà quindi limitata come gli antichi sadducei egli sarà annoverato fra gli angeli che non possono moltiplicarsi egli non avrà il privilegio di essere annoverato fra i figli di Dio e così di aver diritto come erede a partecipare alle benedizioni riservate a coloro che ricevano un'eredità nel regno del padre non sposatevi al di fuori della chiesa per le ragioni esposte precedentemente è un errore molto grave per un giovane uomo o una giovane donna sposarsi al di fuori della chiesa perché in tal caso essi non possono sposarsi con la promessa dell'unione eterna chiunque sia la persona che ufficia nelle cerimonie nel matrimonio questo sarà per il tempo soltanto e dopo la morte separerà le due parti che nell'aldilà non avranno alcun diritto sui figli lo stesso principio vale per entrambi gli sposi che membri della chiesa si rifiutano o trascurano di ricevere l'ordinanza matrimoniale nella maniera debita nella casa del signore è vero che essi in seguito possono andare nella casa del signore e far sì che le loro benizioni siano suggerinate su di loro ma è molto meglio far questo subito per non temere che l'occasione arrivi quando è troppo tardi insegnatevi la legge del matrimonio eterno voglia il signore che tutti i padri e tutte le madri insegnino ai loro figli la natura sacra dell'alleanza matrimoniale e che imprimano bene nella loro mente il fatto che in nessun altro modo se non rispettando le alleanze di Dio tra le quali quella del matrimonio eterno è una delle più grandi e imperative essi possono ottenere le benizioni della vita eterna se si rifiutano di ricevere questa ordinanza ed altre benizioni nella casa di Dio essi non godranno di questa benizione elevate perciò non porteranno alcuna corona non avranno alcun regno e non reggeranno alcun scettro ed essi sarà negata la pienezza della conoscenza e del potere e come figlio al prodigo potranno far ritorno nella casa del padre loro ma come servitori e non come figli se si atterranno a questi comandamenti la loro fede e l'esaltazione non avranno limiti sposatevi nella maniera giusta o non sposatevi affatto in varie occasioni ho sentito il presidente Giuseppe gli smitti dire che preferirebbe accompagnare i suoi figli uno ad uno alla tomba in piena innocenza e purezza consapevole che essi si leverebbero o poi per evitare la pienezza della gloria celeste piuttosto che farli sposare al di fuori della chiesa o anche fuori dal tempio del Signore perché egli sarebbe stato così risoluto perché sapeva perfettamente quello che secondo la legge del Signore significa il matrimonio e perché conosceva le conseguenze che derivano dal rifiuto di questa alleanza nella casa di Dio infatti coloro che si rifiutano di ricevere questa ordinanza voluta dal Signore non possono entrare nella pienezza della gloria celeste l'esaltazione per le donne inubili e fedeli voi brave sorelle che siete inubili e sole non temete non pensate d'essere in futuro private di questa benizione solo perché non avete accettato un matrimonio non gradito voi non dovete temere alcuna condanna perché in condizioni meno svantaggiose avreste rispettato le ordinanze e le benedizioni di suggellamento nel Tempio del Signore e per questa vostra speranza che decidere che non potete realizzare ora il Signore vi ricompenserà e voi sarete benedette sì nessuna benedizione vi sarà sottratta il Signore vi giudicherà secondo i desideri del vostro cuore e non vi condannerà per quello che voi non avrete potuto evitare le donne nubili saranno giudicate in base ai loro desideri secondo l'usanza moderna sta all'uomo prendere l'iniziativa nella questione del matrimonio le donne in forza di ciò che devono essere riservate infatti se una donna prende l'iniziativa e fa una proposta di matrimonio l'opinione pubblica la biasina perché ha agito in maniera sconveniente tutto ciò è assurdo ma ciò non di meno è un dato di fatto quindi la responsabilità è dell'uomo nessuna donna sarà condannata dal Signore per essersi rifiutata di accettare una proposta che essa sente di non poter convenientemente accettare secondo me fanno bene le nostre brave ragazze a rifiutare un'offerta di matrimonio se questa non è di loro gradimento e i motivi possono essere più di uno per esempio non provare alcuna simpatia né alcun altro sentimento positivo per l'uomo in questione eccetera non per questo esse devono temere di perdere ogni ricompensa e il Signore giudicherà secondo i desideri del loro cuore e non priverà in futuro delle benizioni tenute in serbo per loro fare una giusta scelta del compagno o della compagna della vita questa vita è breve e l'eternità è lunga se pensiamo che l'alleanza matrimoniale durerà per sempre sarà bene considerarla con molta attenzione una decisione affrettata in questo importantissimo campo della vita può riempire di dolore infinito l'esistenza mortale del marito della moglie e dei figli i risultati possono estendersi e si estendono dall'eternità e provocare un rimpianto irreparabile che durerà per sempre dal punto di vista dei santi degli ultimi giorni il matrimonio è un importante passo della vita in cui l'agire affrettatamente pensando che il pentimento può aspettare potrebbe dimostrarsi fatale il consiglio giusto da dare ai nostri giovani è di scegliere attentamente la propria compagna e il proprio compagno animati dalla fede del Vangelo il giovane che agirà in questo modo avrà maggiori possibilità di tener fede ai voti e ai patti e le prospettive se non manca la fede nella divina missione del nostro signore nel Vangelo rivelato per mezzo di Giosus Smith il profeta sono tutte in favore di un'unione felice che durerà per sempre il consiglio che io do alle ragazze è questo se non riuscite a trovare un marito che sia fermo nella sua religione e che abbia fede nel Vangelo del nostro signore è preferibile che rimaniate inubili è meglio rinunziare a qualcosa nella vita mortale e raggiungere la vita eterna che perde la salvezza nel regno di Dio ricordate che se sarete fedeli il signore vi darà una felice unione eterna che sarà molto di più di quello che avete temporaneamente perduto se abbiamo sperato in Cristo per questa via soltanto noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini il secondo matrimonio celebrato fuori dal tempio quando una persona è stata nel tempio ed ha stretto solenni alleanze e poi dopo la morte del suo compagno o compagna sposa qualcuno che non fa parte della chiesa commette una gravissima mancanza perché viene meno alle alleanze e alla fede delle promesse del signore la persona che viola le alleanze e ignora i comandamenti oltre che a rivelarsi di vacillante fede offende la chiesa e può per la gravità di un tale fatto perdere non soltanto i suoi figli ma anche la sua stessa salvezza suscitare una progene al proprio fratello quando un uomo e una donna si sposano nel tempio per il tempo per l'eternità e successivamente l'uomo muore e la donna sposa un altro uomo essa può farlo solo per il tempo quando un uomo sposa una donna vedova il cui matrimonio era stato celebrato nel tempio dovrebbe essere a conoscenza che i suoi figli che nasceranno da questa unione egli non avrà alcun diritto essi andranno con la madre questa è la legge sicuramente un uomo non può ragionabilmente aspettarsi di prendere la moglie di un altro uomo dopo che questo è morto crearsi una famiglia con lei e poi avanzare diritti sui figli se egli vuole una famiglia propria deve sposare una donna che può avere per l'eternità questo è un totale accordo per l'ordine patriarcale qual era anticamente la legge il secondo marito non doveva forse suscitare una progenie per il proprio fratello grazie 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 a tutti. Grazie a tutti.